Io sono di origine campana, vengo da un paesino nella provincia di Avellino, Avella e la mia attività compositiva degli ultimi anni è volta anche a valorizzazione di quella che è appunto la mia terra, la mia campagna Felix e vorrei citarvi a proposito tre lavori che ho scritto appunto per la campagna Felix, il primo è rappresentato da una sinfonia scritta per grande organico dedicata appunto ad Avellano, dal nome Avellana e il secondo lavoro invece sono quattro visioni rappresentato da quattro visioni per piano solo presso il vecchio castello di Avella, anche questo lavoro è dedicato appunto ad un maniero storico di origine longobarda che abbiamo in paese e il terzo lavoro della trilogia campagna Felix è invece dedicato ad una leggenda della costiera amalfitana sul sentiero degli dei rappresentato da un melologo ispirato appunto da una leggenda dei due scogli, dei due grandi fraioni gemelli che si trovano a vetri sul mare. Come avanti a breve pubblicherò il mio ultimo lavoro che è rappresentato dalla stanza dei burattini, una suite che nasce per pianoforte e che verrà pubblicata esclusivamente in vinile oltre ovviamente alla distribuzione digitale. Quindi il primo lato del vinile conterrà la parte pianistica e poi invece sul secondo lato avremo una orchestrazione per organico da camera fatta dal maestro Giulio Marazzia con cui collaboro da anni e con l'interpretazione dell'orchestra per golesi, una nuova entità, una nuova realtà della scena milanese. Ho scritto altri diversi lavori sempre ispirati o da viaggi che ho fatto o da quella che può essere la mia musa ispiratrice che è mia moglie che è stata appunto una ballerina professionista al Teatro dell'Opera di Roma e che ha ispirato tante delle mie opere tra cui un balletto che ho scritto dopo aver letto una favola di Nassim Eichmet. Grazie a tutti.